ben ritrovati i miei storici ospiti al salone della storia della locanda come avete visto ho cominciato a portare come podcast la storia delle città italiane ho parlato della mia città natale della città che più di ogni altra vorrei visitare e ora parliamo della città che una volta l'anno pandemie permettendo diventa la capitale dei nerd italiana molto probabilmente europea e se la batte bene a livello mondiale oggi quindi parliamo della storia di lucca le origini di lucca l'epoca preromana la ricostruzione delle origini di lucca è ancora oggetto di controversie storiche l'origine del nome secondo silvio pieri è incerta da studi toponomastici comunque più recenti e concreti il nome di lucca ha riferimenti che portano a bosco sacro dal latino lucus tagliare dal latino lucare e spazio luminoso leuc termine in uso nelle prime popolazioni europee e da cui derivano altri nomi di città come vienna l'ipotesi iniziale oggi sempre meno considerata veritiera era quella di una radice celtu ligure lucca luogo paludoso invece l'origine a quanto pare riporta un'area boschiva deforestata per fare spazio alla luce o ad una radura posta su un'isola fluviale di detriti del serchio in mezzo ad aree boschive i primi insediamenti quasi certamente si hanno quindi già con le prime popolazioni europee mediterranee quindi con i liguri e successivamente con gli etruschi già verso l'anno 1000 avanti cristo si hanno prove di estrazione e lavorazione del ferro a prova della presenza di popoli insediatisi nella piano occidentale del serchio monete lucchesi sono state rinvenute e sono databili fino al quarto secolo avanti cristo epoca romana nel 180 avanti cristo lucca diventa colonia romana fu a lucca che nel 56 avanti cristo cesare pompeo e crasso si incontrarono e rinnovarono il patto di governo chiamato primo triunvirato precedentemente stipulato nel 60 avanti cristo con la promulgazione della lex julia municipalis lucca nell'89 avanti cristo fu elevata al rango di municipium sulle vicende storiche di questa prima fase del municipium locchese si conosce poco a causa dei pochissimi documenti arrivati integri fino ai giorni nostri tra i pochi documenti troviamo una lettera che cicerone scrive a bruto in cui viene citato il nome di lucca quello che invece sembra confermarsi sempre più è l'importanza strategica di lucca in qualità di città fortezza sia nel primo confine della repubblica romana che durante l'impero in caso di attacchi barbarici da nord da notare che lucca si trova proprio sul confine dell'olivo della penisola italiana quindi sul confine del clima mediterraneo che ha fatto trionfare la civiltà romana perciò lucca risultava per i primi romani la città fortezza che doveva proteggere il cuore dell'impero dalle ostilità del continente l'importanza strategica di lucca è stata provata anche dal ritrovamento di blocchi di pietra di enormi dimensioni frammenti quindi di mura difensive di dimensioni senza uguali rispetto ad altre città lucca infatti indicata in modo stilizzato da una fortificazione questa importanza strategica e militare di lucca ha dato modo alla città di mantenere un alto grado di importanza nei successivi sviluppi storici medievali periodo longobardo dopo essere stata conquistata dagli ostrogoti nel 493 e poi dai bizantini nel 552 i longobardi giunsero a lucca tra il 568 e il 584 in quell'epoca era vescovo di lucca san frediano che nel 575 fece aprire una nuova via al fiume serchio attraverso la gola di ripafratta eliminando in parte i gravi problemi che dalla fondazione il fiume causava alla città ebbero inizio saccheggi e devastazioni ma progressivamente si ebbe un avvicinamento tra i nuovi conquistatori e la popolazione autoctona grazie alla profonda religiosità mostrata dai longobardi e alla concessione ai lucchesi di una condizione giuridica nella nuova organizzazione politica decretata dai re longobardi autari e agilulfo venne così fondato il ducato di tuscia con capitale lucca archetipo della moderna toscana comprendente anche firenze successivamente autari riorganizzò la toscana costituendo tre ducati il ducato di lucca il ducato di firenze e il ducato di pisa quello di lucca divenne sede abituale del re e importante nodo viario lungo la via francigena nel 774 cade il dominio longobardo e lucca passa sotto quello dei franchi con l'avvento del sacro romano impero firenze diviene la nuova capitale del marchesato undicesimo quattordicesimo secolo con la morte della marchesa di toscana matilde di canossa nel 1115 lucca città di mercanti di banchieri comincia a muovere i primi passi verso l'indipendenza il neonato comune di lucca assume un nuovo ordinamento e la città viene divisa nelle cinque parti che prendono nome dalle porte cui fanno capo santi giarvasio e protasio san donato san paolino santa maria e porta di borgo la città era retta da due consoli e da un consiglio generale che era solito riunirsi nell'ex anfiteatro in questi secoli lucca era una delle principali città in italia in termini di produzione e commercio della seta la prosperità della città si arricchiva grazie anche ai continui pellegrinaggi da tutta l'europa lucca era una delle mete principali della via francigena grazie soprattutto al volto santo e alle reliquie di importanti santi quali san frediano san regolo e san cesario di acono e martire di terracina il santo tutelare degli imperatori romani così come nelle altre città toscane di firenza e pistoia anche lucca si divise nella fazione di guelfi bianchi e in guelfi neri in cui confluirono la maggior parte delle famiglie dell'epoca nel 1301 i guelfi bianchi a seguito dell'uccisione del magistrato opizzo pizzi furono costretti all'esilio e si rifugiarono a pisa venendo accusati di essere ghibellini in questi anni a capo della fazione popolare emerge il mercante bonturo dati che governa la città dal 1310 al 1313 nel 1314 uguccione della fagiola già signore di pisa entra vittorioso a lucca nel 1316 un'insurrezione popolare caccio guccione della fagiola ed il popolo elegge castruccio castracani degli antelminelli capitano generale e successivamente duca di lucca pisa pistoia luni e volterra castruccio sconfigge l'esercito di firenze nella battaglia di alto pascio inseguendo gli sconfitti fiorentini sino sotto le mura della città dove il condottiero da ordine che siano corsi e introdotti in segno di spregio ben tre pali ossia rispettivamente per gli ciuchi gli uomini a piedi e le meretrici con la morte di castruccio castracani nel 1328 per lucca inizia un periodo di decadenza che porterà la città a passare di mano a diversi rivali nel 1329 la città venne posta sotto assedio e conquistata dalla compagnia del ceruglio comandata da marco visconti che ne divarrà per breve tempo signore prima di venderla ai genovesi per la cifra di 30.000 fiorini nel 1342 la città fu conquistata da pisa che la occupò fino al 1369 lucca convince l'imperatore carlo iv dietro pagamento di un tributo di 300.000 fiorini ad emettere un atto per la liberazione della città l'imperatore di passaggio in italia scenda lucca e il 6 aprile 1369 firma l'atto di liberazione che consente ai cittadini di ricostituire la repubblica tante furono le famiglie nobili al potere come i nuccorini che dal 1300 al 1371 vediamo iscritto al supremo magistrato dell'anzianato il governo di lucca decise che la città fosse da dividere in tre parti chiamate terzieri san martino san paulino e san salvatore i terzieri avevano un duplice scopo uno politico ed uno difensivo in quanto i rispettivi abitanti facevano parte della milizia urbana che in caso di allarme doveva provvedere alla difesa delle mura i terzieri erano divisi in gonfaloni e i gonfaloni a loro volta erano divisi in pennoni il terziere più grande era quello di san martino che occupava la zona est della città e si divideva nei gonfaloni cavallo pappagallo rota e stella il secondo in grandezza era quello di san paulino che occupava la zona ovest e comprendeva i gonfaloni sirena luna falcone e granchio il più piccolo era il terziere di san salvatore che occupava la zona nord ed era diviso nei gonfaloni corona sole gallo e rosa l'imperatore carlo quarto concesse inoltre alla città anche la possibilità di dotarsi di uno studium generale ma una vera e propria università lucchese non entrerà in funzione prima del 1787 il periodo guinigi paolo guinigi venne eletto signore di lucca il 21 novembre 1400 dopo numerosi scontri e vendette trasversali tra la casata dei guinigi e quella dei forte guerra abolì il consiglio maggiore e istituì un consiglio di stato che aveva il compito di assisterlo politicamente inoltre si ebbe una spinta propulsiva del commercio della seta e dell'industria bancaria il suo potere aumentò notevolmente grazie ai suoi matrimoni combinati la più famosa moglie senz'altro è l'aria del carretto che sposò nel 1403 alla sua morte fece costruire intorno al 1406 da jacopo della quercia il celebre sarcofago marmoreo ora conservato nel duomo oltre che interna si ebbe anche un periodo di pace esterna grazie alla sua politica estera ambigua giurò fedeltà a tutti i tre i papi nominati prima di martino quinto e li accolse durante le loro visite in città strinse rapporti con l'imperatore sigismondo che lo confermò nel 1413 vicario imperiale in lucca legittimando così la sua signoria nel 1418 a seguito della guerra tra milano e venezia ci fu un ribaltamento delle alleanze a livello generale firenze indusse braccio forte braccio da montone ad invadere e saccheggiare la città paolo non riuscì a resistere e per scacciare l'invasore dovette pagare una cifra esorbitante la pace del 1425 tra firenze alleata di venezia e milano lasciò armati fiorentini che si rivolsero contro lucca perché il figlio di paolo guinigi l'adislao guinigi aveva aiutato filippo maria visconti i fiorentini guidati dal condottiero niccolò piccinino devastarono il contado lucchese e giunsero ad assediare le mura la città si salvò solamente il 28 febbraio 1429 grazie all'intervento di francesco sforza il quale evitò che lucca cadesse sotto il dominio fiorentino in seguito firenze pagò lo sforza per abbandonare lucca e nel 1430 lucca fu assediata ancora una volta durante quest'assedio i fiorentini tentarono di arginare il serchio per allagare lucca ma per via di alcuni errori si allagò l'accampamento fiorentino intanto i lucchesi chiesero di nuovo aiuto a filippo maria visconti che ancora una volta agì indirettamente chiedendo ai genovesi di aiutare lucca genova facendo valere un'antica alleanza con lucca chiesa firenze di non disturbare lucca e al rifiuto di firenze genova inviò un esercito di 6.000 uomini guidati da niccolò piccinino che attaccò i fiorentini sul serchio e dopo una sanguinosa battaglia vennero costretti a ritirarsi perché i lucchesi li avevano presi alle spalle uscendo dalla città questi fatti accrebbero il malcontento che sfociò in una congiura ordita da pietro cenami e lorenzo buonvisi che lo depose nella notte tra il 15 e il 16 agosto 1430 perché si diceva che avesse trattato con i fiorentini gli anziani dettero l'annuncio di una rivolta popolare che aveva travolto il loro signore in realtà il signore si trovava in carcere a pavia prigioniero del duca di milano dove morì due anni dopo così venne restaurata la repubblica aristocratica nel frattempo andò crescendo l'attività bancaria cittadina sostenuta anche dalla presenza ebraica nel 1431 angelo di gaio un ebreo di origine forlivese ottenne il permesso di stabilirsi in lucca e di aprire un banco nel 1446 vennero pubblicati nuovi statuti con innovazioni riguardo all'istruzione pubblica e venne deciso di non fondare l'università degli studi perché sarebbe costata troppo nella seconda metà del quattrocento lucca sarà coinvolta in numerose guerre di confine e inizia il suo periodo di decadenza a parte un breve periodo di signoria come quello di paolo guinigi lucca rimase una repubblica indipendente fino al 1799 anno della sua definitiva caduta a opera dei francesi le mura del cinquecento dal sedicesimo secolo partì l'opera di realizzazione della nuova cerchia muraria adatta all'avvento dei nuovi mezzi bellici e della polvere da sparo grazie alla realizzazione delle mura di lucca per la loro efficienza e al sistema di avvistamento la città rimedia una volta per tutte ai continui assalte alla repubblica le principali nemiche di lucca modena e firenze che ormai dominava il resto della toscana evitarono di muovere guerra diretta alla città viste le elevate difficoltà ad assaltare le nuove mura la repubblica di lucca mantenne così l'autonomia per altri secoli fino al diciannovesimo secolo dalla fine della repubblica al granducato di toscana il 23 giugno 1805 su richiesta del senato di lucca viene costituito il principato di lucca e piombino assegnato la sorella di napoleone bonaparte elisa bonaparte e dal marito felice baciocchi mantenendo una certa autonomia rispetto alle altre città italiane sotto dominio diretto di napoleone congresso di vienna nel congresso di vienna venne deciso di creare il ducato di lucca il 10 maggio 1815 subentra come reggente maria luisa di borbone spagna alla quale succedette carlo ludovico di borbone parma nel 1847 venne ceduta al granducato di toscana nel 1860 fu infine annessa al regno di sardegna nel 1989 lucca vince il premio d'europa un riconoscimento attribuito alle città che si impegnano a promuovere la coesione tra le nazioni europee il 24 novembre 2006 lucca ha ospitato il vertice bilaterale italia francia alla presenza del presidente del consiglio prodi e del presidente della repubblica francese scirac nell'aprile del 2017 è stata città ospitante del g7 degli esteri al quale presero parte relativi ministri di italia canada francia germania giappone regno unito e stati uniti il celebre compositore violinista della signoria dal 1710 al 1714 è stato il lucchese francesco geminiani lucca è la meta della via del volto santo e con questo miei cari ospiti tutto sedetto sulla storia di lucca mi vorranno scusare lucchesi se per caso dimenticato qualche cosa io non posso far altro che riconoscere la grandezza di lucca lo visitate tante volte grazie al lucca comics e devo dire che è una delle città più belle che abbia mai visto e soprattutto molto ben organizzata quindi pandemia a parte se cercate un posto dove essere nerd al cento per cento dirigetevi a lucca il vostro host e vi ricorda di mettere like a questo video che potete commentare suggerendomi nuove voci da trattare e ci vediamo al prossimo podcast